I problemi del traffico però sono di tutti. Anche a Parigi sono arrivati più o meno alle stesse conclusioni generali, cioè che nelle città d'oggi giorno due ruote occupano meno posto di quattro. La differenza è che loro la vedono così un po' a schimbescio. Come vedete è molto semplice. Un colpo di sterzo e il gioco è fatto. L'esibizione che vi abbiamo presentato era gentilmente offerta da una nota in presa di... Questo sport molto diffuso in Germania si chiama autoball. Per praticarlo occorre una vecchia utilitaria in grado di sopportare ogni sorta di sfregio e un vasto campo di gara. È una specie di polo che sostituisce al cavallo le quattro ruote di una macchina. Seduti al volante dei loro cattorci questi virtuosi infilano gol su gol. Hanno imparato finte e dribbling sottoponendosi a un'intensa cura di traffico nelle ore di punta. Sono campioni ma chiunque di noi abituato ad evitare la morte ad ogni incrocio saprebbe fare di meglio. Grazie a tutti.